Prendo contatto tra la sacra, zona fra scapolare e posiziono per trattare tutta la zona paravertebrale attorno alla scapola e lavoro pollici separati dalla zona del bordo scapola, spostando il punto fisso anche la zona più vicina alla colonna. Approssimativamente fino all'altezza della settima ottava vertebra toracica, lì che mi sposto, mi porto frontalmente alla zona centrale e lavorando con un pollice sulla zona paravertebrale relativa al ramo interno vescica urinaria e l'altro pollice sulla zona relativa al ramo esterno vescica urinaria tratto lavorando con due pollici in modo alternato con pressioni profonde e anche prolungate continuo ad arrivare alla zona del bacino continuo continuo trattando il bordo del sacro il sacro e tutta la e tutta la circonferenza raggiungibile della cresta eliaca sostenendo trattando dalla spina eliaca anteriore tratto con l'avambraccio tutta la zona del gluteo e del sacro termino con una serie di pressioni fatte con i pollici che lavorano contemporaneamente su delle linee orizzontali che partono dalle vertebre in questo caso sono sacrali e si spostano verso l'esterno in questo caso affolgo bene con le dita e lavoro sempre trattando una serie di linee orizzontali che poi partono dalla colonna e terminano verso l'esterno andando così a realizzare un trattamento di armonizzazione di tutte le zone della schiena quale che sia il modello culturale di riferimento a cui si fa richiamo questo lavoro termino la posizione iniziale con il contatto non è del sacro e zona intrascapolare si 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 Grazie a tutti.